Perché poi se un giorno Bitcoin prende davvero piede, noi toglieremo il potere economico agli stati per effettuare una repressione, per finanziare una violenza. Quindi se noi cominciamo tutti ad usare Bitcoin, siamo in un sacco, attaccare un lato private si diventa difficile e allo stesso tempo togliamo allo Stato il cibo stesso con cui lui va a nutrirsi per attaccare le persone. Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Checkpoint Bitcoin. L'intervista di oggi è con Tartalcute, una persona anonima di cui non sappiamo nulla, che si occupa di privacy. Con lui abbiamo parlato appunto di privacy, sia da un punto di vista generale che su Bitcoin. È un'intervista molto interessante ma anche molto pratica, quindi vi consiglio di seguirla dall'inizio alla fine. Io sono Fabio, autore del sito Checkpoint Bitcoin, un sito web nato per fare divulgazione su Bitcoin che è appena sbarcato su YouTube. Quindi se vi interessano contenuti relativi a Bitcoin, iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto e godatevi l'intervista. Benvenuto a Tartalcute su Checkpoint Bitcoin. Ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere qua, grazie dell'invito. Ok, che bello avere con noi un avatar, un avatar da intervista, una figura fissa, cioè io proprio vedo un avatar, è come se parlo a uno schermo, no? Di solito, sai, sono persone e mi interfaccio, ma non in questo caso. Dunque, chi è Tartalcute? Ci vuoi spiegare un po' chi sei e di cosa ti occupi? Allora, un saluto a tutti. Io, il mio nome tra virgolette è Tartalcute perché il mio vero nome reale non lo rivelo, non mi rivelo in viso, quindi mi dispiace, vi dovrete prendere il mio bellissimo logo classico, quindi la mia immaginina rosa con il Bitcoin. Sono un semplice ragazzo che da un po' di tempo si interessa ad argomenti quali Bitcoin, privacy e sicurezza, e a un certo punto, insomma, ho pensato di aver davvero imparato tanto, preso tanto da questo mondo, che volevo restituire qualcosa a questa comunità, volevo fare qualcosa anche io in questo mondo, e quindi dopo un pochino di tempo in cui ho accumulato esperienza, un po' di conoscenze, guardando in qua e là, provando, smanettando, ho deciso di aprire, tra virgolette, un canale Telegram, poi dopo ho fatto un pochino di altri progetti di, diciamo, divulgazione. Allora, Tartu, ti faccio la prima domanda, cioè, tu com'è che sei finito ad interessarti così tanto di privacy? Cioè, hai vissuto qualche trauma o è stata, come dire, un'escalation? È stato un mix delle due cose, nel senso che io, fin da quando ero abbastanza giovane, io mi interessavo a modding di telefoni, quindi cambiare il sistema operativo dei telefoni, smanettarli, cose del genere, mi interessava Bitcoin. Ovviamente la privacy è una cosa che non valutavo più di tanto, per esempio utilizzavo tutti i servizi Google, tutto il mio Google Drive, Google Maps, tutto, e poi mi ricordo che un anno, penso di primo report annuale di fine anno di Google, c'era, quest'anno ha inviato 1.2 gigabyte di dati in un anno ai server Google. Allora, questa cosa mi ha traumatizzato l'anima, perché 1.2 gigabyte di dati sono una quantità immensa, perché non sono immagini o video. Cioè, si parla di cronologia delle posizioni, gusti, video su YouTube che hai visto, e 1.2 gigabyte, cioè, vuol dire che Google mi conosce meglio di come mi conosco io, perché io mi scordo le cose, Google no. E allora, dopo questo trauma, ho cominciato a interessarmi a questi argomenti, sia correlati, diciamo, alla vita digitale, quindi privacy sul proprio telefono, privacy sul proprio computer e su Bitcoin. Queste qua sono, in generale, tre tematiche che mi interessano molto, soprattutto telefoni e Bitcoin, sono i miei main argomenti in cui mi informo, seguo di più tutto e provo e testo le cose. E niente, è una passione che è nata da un semitrauma e un po' da argomenti che già mi interessavano prima. Ok, quindi diciamo che Bitcoin è arrivato dopo? Cioè, si è coniugato bene con questi... Si è coniugato bene, diciamo, sono cose che poi si sono legate, in generale, perché mi interessavano ed effettivamente sono molto dipendenti l'una dall'altra anche. All'uomo comune, cos'è che sfuggisce della privacy? Cioè, cos'è che uno riesce ad afferrare sull'importanza della privacy? Allora, secondo me la privacy è una cosa che in realtà tutti involontariamente un po' valutiamo internamente. Se ci pensi, nessuno o comunque la gente si sente a disagio a dire, non so, pubblicamente quanti soldi è in banca o quanto guadagna di stipendio, perché sono dati che la persona media, l'umano, reputa tendenzialmente sensibili. Queste cose, finché siamo, tra virgolette, nel mondo reale, secondo me le persone magari se ne rendono conto. Magari non gli piace mostrare dove nascondono le cose in casa, anche questo è privacy. Per me privacy vuol dire decidere a chi e in che modo divulgo una certa informazione, cioè avere la libertà o meno e scegliere a chi do una mia informazione. Quindi ci sono cose, nessuno di noi andrebbe in giro in metropolitana con scritto su una maglietta quanti soldi è in banca, perché potrebbe essere una cosa pericolosa. Ecco che però quando ci avviciniamo nel mondo digitale, secondo me le persone si rendono molto meno conto di i dati che rilasciano involontariamente e purtroppo si è creata una sorta di economia in cui l'utente non è disposto a pagare nulla online, vuole tutto gratuito. E le aziende guadagnano un sacco di soldi semplicemente prendendo, rubando più dati possibili dagli utenti, cercando di mantenerli sulla propria piattaforma più tempo possibile per poi capirne i gusti pubblicitari, gli interessi, i dati, per poi rivenderli ad aziende terze o propinare pubblicità. Quindi secondo me le persone hanno un senso di privacy, il problema è che questo è un po' inibito quando si interfacciano con il mondo online e questa cosa può essere un po' pericolosa perché spesso, o per sicurezza propria, rilasciamo un sacco di dati, un esempio, che ne so, Ledger, che è un hardware wallet, era stato hackerato il suo database, quindi non hanno rubato niente di fisico, ma hanno rubato il database con tutti i dati degli acquirenti. Quindi voleva dire che online era pubblico il fatto che una persona aveva un Ledger, quindi deteneva Bitcoin, c'era il suo nome e cognome, il suo indirizzo di casa. Questa potrebbe essere una informazione, diciamo, per la propria sicurezza pericolosa quasi. E allo stesso tempo vogliamo assolutamente tutti i nostri servizi, quindi YouTube, Spotify, eccetera, gratuiti, perché ci sta, io ho un podcast e ascolto un sacco di podcast, se dovessi pensare, cavolo, ogni podcast che ascolto devo pagare 20 centesimi, mi scoccierebbe. Però per, diciamo, creare questo modello di business sostenibile perché gli utenti non vogliono pagare, le aziende come per esempio Spotify raccolgono tutti i dati su di voi, infilano pubblicità e li vendono a terzi, che per la propria privacy è una cosa dannosa. Quindi secondo me, giusto per riassumere, le persone hanno un senso di privacy nella vita fisica, fanno più fatica nella vita online a rendersi conto dei rischi e dei pericoli. L'ho notata anch'io questa cosa, perché quando si va nell'online è tutto un mondo fatato in un certo senso, senza, di cui non si percepiscono le minacce. Ma secondo te questa raccolta di dati è finalizzata solo al marketing o ci sono anche degli interessi più oscuri in tutto questo? Visto che ormai siamo una società completamente digitalizzata e probabilmente lo saremo ancora di più nel futuro, qual è lo scenario che ti immagini a questo punto se le cose continueranno così? Allora, io su questo sono purtroppo molto negativo nella visione futura del mondo. A me piacciono molto due libri, che sono i miei libri preferiti, che sono 1984 e Il Mondo Nuovo. Sono due libri degli anni 40-50 del 1900 e mi stupisco sempre di più di come secondo me un secolo fa avevano in mente chiaramente questi scrittori di come diventerà il mondo. Cioè secondo me è davvero, un po' nella mia visione delle cose, secondo me se non si combatte per qualcosa, per queste motivazioni si arriverà a un 1984, quindi davvero un mondo con una repressione, controllo massimo da parte di stati, su una cittadinanza che tendenzialmente l'uomo diciamocelo, cerca la stabilità. L'uomo purtroppo molto spesso è disposto a rimanere ingabbiato per avere la tranquillità, per non dover far fatica, gli piace avere tendenzialmente qualcosa, uno Stato o un ente superiore che lo fa sentire tranquillo e protetto. Purtroppo queste cose vanno a limitare fortemente la libertà delle persone e possono appunto creare dei futuri distopici secondo me molto negativi e pericolosi. Diciamo che ovviamente non c'è nessuna, io non posso dire sicuramente Spotify, Google, Amazon, i vostri dati li raccolgono solo per reprimere i cittadini, l'unico loro obiettivo è il controllo. Questo non lo posso sapere, ma secondo me al 99% in ogni caso ci sono stati che semplicemente acquistano tutti questi dati da queste aziende, perché ci sono già mille collaborazioni tra esse. Faccio un esempio, Stato americano o anche Stati europei utilizzano Amazon AWS, quindi i server di Amazon per le infrastrutture statali. Stati Uniti hanno completo accesso pagando 2 miliardi all'anno ad Amazon ai campanelli con videocamera di Amazon, quindi vuol dire che se tu sei una persona che viene arrestata, io posso vedere quali sono le persone che hanno suonato il tuo campanello se tu hai un campanello di Amazon. Quindi rapporti Stato-grandi aziende-big tech ci sono. Secondo me è molto probabile, anzi ormai ci sono mille prove di questo, che acquistino tonnellate di dati, e che poi li utilizzino anche per manipolare, che ne so, opinioni. C'è stato tipo lo scandalo recente, Twitter ha confermato che su Twitter è stato, io faccio nome e cognomi semplicemente per i dati, non espongo nessuna ideologia politica, tipo è stato insabbiato tutto il casino del figlio di Biden, dove gli erano stati rubati dal computer dei video, in cui insomma si divertiva con droghe e faceva cose. è un personaggio politico, diciamo, influente, perché è il figlio del Presidente degli Stati Uniti. Effettivamente questi video sono presenti su internet, ma se voi guardate, qualsiasi tweet o cose del genere sono totalmente scomparsi, la cosa non è quasi uscita, e l'altro giorno Elon Musk ha confermato che guardando nelle cose di Twitter, una volta che adesso l'ha acquistato, queste cose erano ufficialmente successe, ne ha condiviso le prove, e così come tanto altro. Quindi secondo me sì gli stati influenzano persone, acquistano dati, si espandono sempre di più dal punto di vista informatico sulle possibilità di controllo della popolazione, non so dove andremo a finire. Semplicemente vedo sicuramente questo processo in atto. Sì, io condivido il tuo punto di vista, e se ci pensi, cioè alla fine tutto il movimento cypherpunk avevano anticipato queste possibilità, magari anche leggendo 1984 o Brave New World, in cui alla fine ciò che si spiega fondamentalmente è che questo sistema di sorveglianza sarà anche, come dire, una schiavitù desiderata, no? Cioè questo concetto di schiavitù desiderata, non una cosa come era nelle precedenti dittature in cui si obbligavano gli individui a fare qualche cosa, più che altro gli individui verranno manipolati al punto da richiedere quel tipo di sorveglianza, e secondo me un assaggio l'abbiamo anche avuto negli ultimi anni. Se tu pensi a tutte quelle app come Immunio e Compagnia Bella, alla fine portano lo Stato nel tuo cellulare, non è che lo Stato non ci possa già entrare, lo Stato ci può già entrare con Amazon, con Google, se vogliono, come tu hai spiegato. Però in questo modo è proprio, è proprio l'individuo che dice, no, dobbiamo avere quest'app perché così saremo al sicuro, ma in realtà si stanno introducendo dei piccoli, sai, a piccoli step, si introduce qualcosa in cui tu hai, cioè lo Stato avrà dei dati, potrebbe avere dei dati infinitamente superiore rispetto ad Amazon o a Google, del tipo, qui ti sei incontrato, e tutte queste cose così. Sì, sicuramente c'è un, si è vista questa cosa, poi in realtà, cioè, mettiamo così, lo Stato sa già di base chi sono, dove abito, quanto guadagno, cioè ha già tutte queste informazioni. Volendo può aggiungerci informazioni aggiuntive, comprandole da aziende, come sapere le cose che mi piacciono, eccetera, ma c'è lo Stato ha già una quantità di dati a disposizione su di noi, che può già usare per manipolarci e fare quello che vuole. Ma allo stesso tempo, secondo me, da persone interessate alla privacy, è anche pericoloso la gestione dei dati. Cioè, ricordati che al momento, che ne so, lo Stato italiano ha tutti i dati su di te, o le aziende sanno tutto su di te, ma quei dati sono su dei computer online, che c'è tutto l'interesse per hacker ad hackerare e rivendere quei dati. E quindi tu non solo condividi questi dati con state aziende, ma ti fidi anche di loro per la gestione dei tuoi dati. E questa cosa è super sottovalutata, cioè ci sono vari siti che fanno per esempio l'elenco, tipo anche soltanto il più famoso è Have I Been Pwned? Ed è un sito dove per esempio mettendo la tua email ti fa vedere quante volte, in quanti leak di dati, data breach è finita. Cioè, tutti i ragazzi noi siamo finiti in dei data breach. Gli attacchi informatici sono una cosa super diffusa, quindi c'è un incentivo economico per le persone a rubare i nostri dati e rivenderli. Quindi anche lì, noi magari ci fidiamo di, diciamo, io mi fido dello Stato italiano, può dire una persona, do i documenti, i miei dati solo a lui, poi dopo glieli fregano, li ridistribuiscono ovunque, li rivendono ovunque. E quindi non è soltanto problematica la privacy, ma anche la sicurezza dei propri dati affidati ad enti terzi. Sì, perché poi se lo Stato è inefficiente, per definizione, cioè questi leak diventano ancora più, come dire, più probabili. Adesso, per entrare un pochino nel dettaglio, no? Ti rivelo, in un certo senso, che negli ultimi giorni, dovendo fare questa intervista, no? Mi chiedevo quale domande posso porre, posso porre a tanto o più. allora ho parlato di questo esperto di privacy con alcuni miei amici, che ovviamente di bitcoin e di privacy non gliene frega niente, e quando ho detto che tu eri un avatar, no? Che io non ti avrei visto in faccia, non avrei parlato con una persona, sarò spuntate fuori alcune domande interessanti. Quindi te le vorrei porre, quindi la prima domanda è questa. Cosa rischio condividendo foto online o in generale la mia vita privata online con i social media, eccetera, 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 Allora, questa domanda specifica è un po' particolare, nel senso che a livello realmente pratico, a livello di rischi, non ce ne sono di grandissimi. Ovviamente questo dipende, cioè io ho un podcast e parlavo di questo argomento nella scorsa puntata, noi al momento abbiamo un abuso dei social network e un utilizzo che facciamo totalmente sconsiderato, che in realtà può portare a delle problematiche. Un esempio molto stupido ma preoccupante è che se io vado, che ne so, al ristorante con gli amici, vedo una cameriera che per me è super carina e mi piace, io posso palesemente aprire Instagram, cercare il nome del ristorante, nelle persone che seguono il ristorante cercare le ragazze, vedere, trovarla, trovare il suo profilo Instagram, vedere tutto quello che gli piace, se ha un fidanzato o non ha un fidanzato, cosa fa, in che zona abita e questa cosa se ci pensi è abbastanza preoccupante perché ok che può succedere questa cosa, però se io sono un malintenzionato, una persona che ti vuole entrare in casa, ti vuole attaccare o cose del genere, io con al momento il mondo social che esiste oggi posso sapere se tu sei a casa o non sei a casa perché i ragazzi, io parlo da ragazzo giovane, poi non dico la mia età, sono un ragazzo giovane, postano nelle storie su Instagram la loro vita tutto il tempo, quindi che tu sia ballare, fuori a fare aperitivo, stai uscendo a fare due passi con il cane, tutti fanno una storia Instagram e questa cosa può portare dei problemi di sicurezza, se io al momento giorno d'oggi fosse un ladro di appartamenti sarebbe probabilmente il periodo storico migliore della storia per vivere perché il 90% delle persone mi basterebbe seguire su Instagram per vedere dove sono, cosa fanno, quindi secondo me a livello di social ci sono due grosse problematiche, una è questa, cioè della condivisione sconsiderata di dati non solo verso Instagram ma verso tutto Instagram come qualsiasi altre social network non solo verso la piattaforma ma verso anche gli altri utenti che volendo possono o per semplicemente curiosità sapere un sacco di cose di noi o volendo utilizzare anche queste informazioni. Il punto numero due è l'effetto che hanno secondo me i social network su di noi involontariamente, cioè magari io condividendo le foto con la mia amorosa fidanzata su i vari social non ho grossi rischi però in generale secondo me i social ci cambiano a livello caratteriale e come modo di pensare tipo secondo me il concetto delle storie TikTok che sono contenuti brevissimi ci abbassano la soglia dell'attenzione cambiano il modo in cui ci relazioniamo con per esempio le altre persone o l'altro sesso se tu prendi un ragazzo di oggi giovane è scomparso il fatto di andare da una ragazza fisicamente di sei proprio carina mi piacerebbe conoscerti e viene riconsiderata una cosa da pazzi bisogna fare una cosa indirettamente piuttosto ti metto un like su Instagram e ti iscrivo su Instagram queste cose secondo me sono strane particolari quindi secondo me un utilizzo di social normale per le persone può essere un punto di vista diciamo cattivo per la privacy dei propri dati e le cose che divulghiamo sia ad altri privati altre persone che ad aziende sia ma diciamo non buono per noi per come poi questi influenzano involontariamente la nostra vita io personalmente utilizzo qualche social network non dico non usateli però dico siate coscienti e utilizzateli con la testa quei tuoi rischi che vedi però sono un po' a livello comportamentale come influenzano l'individuo è quella cosa che spiega che ti posso venire a cercare tra le informazioni su di te se voglio entrarti in casa o se voglio anche truffarti posso sai trovare un sacco di dati e informazioni che è per confonderti magari se lo so che hai dei figli posso fingere di farci una chiamata a scuola farci uscire di casa poi gli esperti di ingegneria sociale queste informazioni le possono usare alla grande no conta che adesso parlando al volo soltanto di ingegneria sociale un secondo per chi non lo sapesse diciamo è il concetto di non hackerare magari una piattaforma in sé ma e l'ingegneria sociale al momento probabilmente è uno degli strumenti di hacking più potenti di tutti piattaforme enormi siti enormi sono difficili quasi impossibili diciamo da hackerare a livello proprio prettamente informatico perché magari hanno dei setup di sicurezza effettivamente molto complessi non esiste impossibile da hackerare questo qua bisogna saperlo impossibile non esiste magari sono molto difficili nel 99% di casi quando vengono bucati questi sistemi di sicurezza non è per falle di sicurezza informatica ma per fallaccia nel modo di ragionare delle persone quindi magari si inganna un dipendente e si entra diciamo poi nel sistema informatico dell'azienda questo si può fare non solo a livello di hacking per rubare dei dati di un'azienda o a creare un'azienda ma si può anche usare per fregarvi posso fare finta di entrare in sintonia con te perché condividiamo certe passioni quando magari tu queste passioni le hai condivise online a me non me ne frega niente lo stesso vale anche per bitcoin mi vorrebbe da dire perché bitcoin magari è come si dice è antifragile però tu non sei antifragile se io ti frego il sit ti frego i tuoi bitcoin puoi usare tutta la sicurezza che vuoi ma se in qualche modo ti faccio cliccare sul link ti porto su una pagina in cui ti dico devi inserire il tuo sit perché c'è stato un improvviso problema l'ingegneria sociale opera in tutti i modi quindi la fragilità tu dici è nell'individuo non è nel sistema tornando alle domande da normis visto che tu sei così orientato alla privacy se no un'altra cosa che a me interesserebbe capire è in che modo tu ti interfacci con queste tecnologie perché comunque c'è da dire che la tecnologia ci semplifica la vita quando io viaggio uso google maps ok gli darò i dati google però google mi fa risparmiare un sacco di tempo che ne so se voglio ordinare da mangiare no magari apro just it o non lo so giustissimo le altre app che ci sono oppure devo prendere un taxi non è che mi fermo in mezzo alla strada e spero che passo un taxi apro la mia bella app chiamo un taxi in un minuto arriva e arriverò dove voglio tu come ti approcci a tutte queste cose no che ne so le usi queste app come ti organizzi tu volendo mantenere un po' di privacy con queste app qual è il tuo approccio a tutto questo allora dico la mia esperienza perché è come faccio io le cose dopo ognuno ovviamente fa i propri setup di privacy e sicurezza io personalmente ho una divisione super netta fra turtle cute che è la mia identità diciamo come persona che fa divulgazione in ambito privacy e bitcoin e la mia persona privata quindi per me queste sono tra virgolette due facce della stessa medaglia come superman che di giorno una persona e di notte un'altra per me queste sono due identità che devo tenere totalmente isolate l'una dall'altra quindi io semplicemente come turtle cute non divulgo nessun dato niente in nessun modo nel limite delle mie possibilità come persona privata io spesso utilizzo invece questi tipi di servizi ovviamente con la coscienza del possibilmente dare meno dati possibili in ogni caso quindi ora dipende sempre dal livello di tra virgolette paranoia di ogni persona però io potrei per esempio anche nella vita di tutti i giorni se vado a fare una tessera del supermercato non mettere la mia email a cui non serve se io devo ordinare il cibo su delivero non mi serve per forza ok mettere i dati per esempio per ricevere il cibo a casa lo devo per forza mettere però nome cognome come compleanno nome e cognome c'è sul campanello quindi magari sì però più dati possibili per comunque mantenere il servizio funzionante io li do falsi tendenzialmente perché non sono necessari posso utilizzare servizi come gli alias email ovvero io faccio una mail al volo finta che tutte le email che riceve li manda la mia privata poche parole io ho i miei mail inventiamo turtle cute chiocciolatartlecute.com e faccio a chiocciolatartlecute.com tutte le email che arrivano a chiocciolatartlecute.com me li gira la mia email io posso usare questa email qua per registrarmi a qualche servizio poi dopo cancellarla in questo modo ho fatto l'email di verifica per esempio per dei siti per che ne so delivero però almeno così non mi becco 100.000 email di spam di delivery in futuro perché ho fatto un email al volo che poi ho cancellato soltanto per quel servizio quindi diciamo che io in generale nella mia vita privata utilizzo servizi come magari Amazon o cibo a casa Just Eat potrei usare Uber se viaggio all'estero provo sempre a diciamo un pochino compertere le informazioni che gli do dandogli nel meno possibile poi dopo sì ripeto ovvio che sono le tre di notte per esempio utilizzo Google Maps ma io personalmente ho un telefono vecchio carettino da 50 euro in macchina dove ho Google Maps e non lo installo sul mio vero telefono di tutti i giorni poi io sul telefono sono molto particolare perché appunto tratto argomenti di privacy proprio su telefoni ho scritto una guida per privacy su telefoni volendo vendo anche telefoni con setup di privacy è proprio il mio punto su cui sono iper imparanoiato iper sensibile però quindi anche qua vedi semplicemente separo il più possibile le cose isolandole e dando meno dati possibili poi il mio è un approccio da malato di mente è una passione è un divertimento per me fare questo la persona normale secondo me semplicemente magari non serve mettere ovunque il proprio numero di telefono quando vi arrivano le chiamate del pubblicità Amazon vuoi guadagnare soldi trading forex è perché voi mettete il numero di telefono che insomma è la tessera del supermercato e poi Bennett o Super Spar di Inter Spar o Cop vendono quei dati ad altre aziende oppure glieli rubano con attacchi hacker ed ecco che poi vi arrivano le chiamate spam quindi secondo me mettere più dati possibile non necessari falsi o non metterli ok 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 diciamo che in un mondo ideale le persone tutte le persone si interesserebbero estremamente al concetto della privacy tutte le pratiche che possono ridurre il numero di dati condivisi ma secondo te quali sono quelle pratiche che ti piacerebbe vedere negli individui per tutta la privacy e che secondo te contribuirebbero a ridurre le probabilità di uno scenario distopico come quello che abbiamo menzionato prima ci abbiamo potuto darci la ricetta allora questa è una domanda molto complicata ma molto bella come domanda allora personalmente penso che mi piacerebbe sicuramente vedere un utilizzo maggiore di tecnologie come per esempio Tor quindi rete di tra virgolette anonimizzazione o di privacy e questo anche perché tipo per esempio Tor è una rete in cui navigando su dei siti o.onion che sono dei siti proprio che utilizzano questa tecnologia Tor è praticamente una rete particolare che nasconde il vostro IP nasconde chi siete online non è perfetta non siete magicamente subito al 100% anonimi ma vi dà molta privacy più persone utilizzano Tor più no di Tor ci sono più utilizzare Tor è in generale sicuro perché se ci sono 50 persone nel mondo che usano Tor il livello di privacy è quello che è perché ci stiamo comunque nascondendo noi 50 se siamo in un milione il livello è buono se siamo in un miliardo ecco che diventa complicato anche provare ad attaccare queste tecnologie questo vale per tanto è il concetto dell'anonimity set cioè più una tecnologia in generale più le persone fanno una cosa più poi se io devo andare a ricercare un utente specifico in mezzo alla massa più questa massa è grande è più difficile trovarlo se adesso che ne so usare bitcoin hai un livello di privacy diciamo medio perché comunque devi sapere come muoverti nell'utilizzo di bitcoin per avere privacy se no la blockchain è totalmente trasparente tracciabile ecco che se bitcoin lo utilizzano 2 miliardi di persone anche se lo utilizzano senza avere nessuna nozione di base sulla privacy si crea comunque un rumore di fondo che diciamo migliora in generale la privacy di tutti come tecnologie che a me interessano molto mi piacerebbe vedere più usate sono sicuramente Tora che è appunto questa rete di anonimizzazione bitcoin in generale non solo per la privacy ma in generale per le libertà per togliere il potere monetario agli stati e togliere il potere agli stati e queste sono le due cose su cui forse sarei più attaccato di tutti altre cose ce ne sono ma secondo me potrebbero essere realmente non fatte cioè ma che ne so a me piacerebbe tu stai menzionando due tecnologie proviamo ti chiederei di provare a menzione delle pratiche cioè qualcosa che uno può magari fare e portare nella sua quotidianità come tu hai detto ad esempio che condividi dati falsi no? cioè quando ti scrivono ti chiedono metti il tuo nome ovviamente non metti il tuo vero nome magari metti il nome che ne so del tuo compagno di liceo non lo so esatto metti un nome qualsiasi quindi quali sono delle pratiche che perché poi più vuoi andare in profondità più ti puoi anonimizzare se vuoi in un certo senso però magari a molti questa cosa non interessa ma quali sono le pratiche per tutelarsi almeno un po' eh però vedi ti faccio un esempio io proprio nella vita quotidiana eh direi questo in realtà un pochino dipende perché ogni persona parliamoci chiaro privacy vuol dire tendenzialmente scomodità nel mondo di oggi soprattutto digitale quindi è un po' una cosa che ogni persona dovrebbe in sé per sé valutare per se stesso cosa è disposta a fare per guadagnare un po' di privacy secondo me in generale la prima cosa che proprio serve la più importante è soltanto che le persone si ponessero eh diciamo l'importanza della privacy come dubbio come cosa e la studiassero un attimino poi nella vita di tutti i giorni questa cosa è un pochino complessa io tenderei a dire non condividete a destra ma anche cose personali sui social network se dovete cercare cose sensibili online utilizzate Tor se potete questa è magari un pochino più complicata da Bitcoin però se potete eventualmente potete andare in negozi opposti che accettano Bitcoin e non la carta per esempio io è una cosa che faccio poi a livello di tutti i giorni purtroppo la privacy non è facile cioè nel senso io sono una persona che per esempio nella mia vita di tutti i giorni uso tutte cose che mi self-hosto in casa quindi che ne so io non uso Google Drive utilizzo Nextcloud io ho un server in casa mia che se devo condividere un file a qualcuno salvarmi le cose mi salvo tutto in casa mia e faccio tutto in casa da solo queste sono cose che per me sarebbe bellissimo vedere diffuse tra la popolazione ma in totale onestà non vedo magari possono diventare avere uno share di mercato maggiore essere più utilizzate ma non le vedrò mai cioè non me l'immagino un futuro in cui tutti fanno queste cose e purtroppo molte delle cose che mi verrebbe da consigliare sono cose che dubito che potrebbero mai prendere piede come non lo so utilizzare il meno possibile applicazioni closed source e utilizzare applicazioni open che non vi tracciano è una cosa che per me sarebbe bellissimo e lo consiglio a tutti però la dura realtà è che le persone disposte a farlo sono comunque molto poche se devo dare un consiglio è utilizzate il più possibile applicazioni open source sia sul vostro telefono che sul vostro computer se potete e vi va di fare un tentativo provate ad utilizzare Linux e non Windows o Mac OS utilizzate Tor se dovete cercare cose sensibili online e se dovete acquistare o fare donazioni per esempio ad un partito politico cause che sostenete acquistare prodotti che sono rischiosi eccetera utilizzate Bitcoin sono quattro cose che sarebbero bellissime da vedere nel mondo è molto difficile ma sarebbe molto bello guarda secondo me il bello di Bitcoin è che ti porta anche ti avvicina a queste tematiche e poi ti rendi conto che sono importanti e che non sono non te le regala nessuno quindi ti devi come dire un pochino sbattere tu e cercare di migliorare quelle cose che poi nell'insieme secondo me creano una società più resiliente che magari per esempio io prima di Bitcoin non è che ci avrei mai pensato a Tor anzi addirittura mi avevano detto che se tu usi Tor poi ti entrano nel computer mi ricordo che mi disse questa cosa che sei mai sul dark web sì che dicono di stare attento a quello che fai sì esatto però sai adesso se prendi me oggi e me cinque anni fa quando non conoscevo Bitcoin penso di aver contribuito alla mia privacy indirettamente a rendere la società più resiliente perché se ognuno di noi è più privacy oriented come dicevi tu l'anonimity set è maggiore e quindi è meglio un po' per tutti quindi il bello di Bitcoin secondo me è che cambia la società non solo perché usi Bitcoin ma anche perché ti avvicina cambia il tuo comportamento come i social media però in modo positivo magari no? assolutamente sono totalmente d'accordo a proposito di Bitcoin mi sono reso conto che la questione privacy ok o anonimità quando si parla di Bitcoin è molto confusa soprattutto per chi magari sai ne ha sentito parlare poco o non ha approfondito la faccenda ma anche chi si sta avvicinando a Bitcoin potrebbe cioè potrebbe molte persone pensano che Bitcoin o sia completamente anonimo o sia capito un sistema nascosto e oscuro con cui puoi fare chissà quale gioco nascosto alla faccia degli stati in realtà non è così quindi ti chiederei di dirci qual è il reale stato delle cose quando si parla di privacy e Bitcoin cioè qual è lo stato delle cose questo è un argomento molto complesso ma molto interessante rientra nelle mie passioni principali aspetta aspetta ti blocco perché vorrei se tu sei d'accordo poi magari facciamo un'altra puntata proprio uno speciale perché stiamo già andando lunghi sono già 40 minuti magari facciamo uno speciale proprio su queste cose se sei d'accordo si può fare per me non c'è problema benissimo quindi allora abbiamo fatto questo spoiler quindi qual è lo stato attuale delle cose quando si parla di privacy e anonimità su Bitcoin allora la privacy su Bitcoin di default per come funziona Bitcoin non è Bitcoin non vi rende magicamente anonimi oscuri irintracciabile assolutamente no anzi su Bitcoin tutte le transazioni sono perfettamente trasparenti qual è il vantaggio di Bitcoin che Bitcoin sia lato sicurezza sia lato privacy vi lascia la libertà di fare esattamente quello che volete voi di gestirvi la vostra sicurezza la vostra privacy in base a come volete in base al vostro threat model quindi in quanto quanto pensate di essere a rischio quanta privacy volete potete gestirvi nel modo in cui volete su Bitcoin di default Bitcoin è completamente trasparente ci sono società che si definiscono società di chain analysis che analizzano la blockchain e altri dati come per esempio stiamo utilizzando Bitcoin con Tor o no se non stiamo usando Bitcoin con Tor stiamo dicendo chiaramente che che ne so il mio telefono che al mio ipinte è stato a me sta usando Bitcoin quindi Tartelkut sta usando Bitcoin nella vita reale insomma sono aziende che prendono tutti questi dati li analizzano e li mettono insieme qual è lo stato in generale di privacy su Bitcoin al momento allora qua ci sono due grossi punti di vista io dico il mio però effettivamente ce ne sono ci sono due punti di vista che si contrappongono secondo me al momento che è il mio punto di vista la rete Bitcoin a livello di privacy è assolutamente tra virgolette sotto attacco cioè ci sono queste aziende di chain analysis che stanno crescendo a livello assurdo l'azienda proprio chain analysis che è stata la prima che appunto effettuato a queste ricerche è stata fondata nel 2016 o 15 con 20 milioni di dollari di capitale oggi è quotata tipo 8-9 miliardi tutti i soldi investiti da stati in ricerca e attacco alla privacy di Bitcoin quindi secondo me Bitcoin al momento lato privacy è sicuramente sotto attacco il bello di Bitcoin è che per come è strutturato è appunto resiliente cioè permette alle persone di effettivamente si può fare ricerca per la privacy diciamo su come si muovono i Bitcoin sulla blockchain transazioni eccetera ma ci sono anche modi diciamo per interrompere questi diciamo attacchi alla privacy per esempio facendo CoinJoin utilizzando Tor collegati al proprio nodo l'utilizzo di Lightning Network sono tutti argomenti un po' diversi e complicati ognuno ci si potrebbe parlare ore però diciamo che di default Bitcoin non è in nessun modo anonimo anzi per nulla è iper trasparente ci sono modi per guadagnare privacy su Bitcoin ma al momento secondo me comunque il lato privacy su Bitcoin è molto meglio che il sistema bancario tradizionale ma è decisamente sotto attacco un altro punto di vista che comunque per me è molto interessante è quello di per esempio conosco molti Bitcoin magari di vecchia data che dicono chi se ne frega della privacy su Bitcoin noi dobbiamo fregarcene della privacy dobbiamo far usare Bitcoin il più possibile alle persone quindi freghiamocene della privacy che rende tutto più complicato spieghiamogli Bitcoin fregandocene di questo aspetto perché poi se un giorno Bitcoin prende davvero piede noi toglieremo il potere economico agli stati per effettuare una repressione per finanziare una violenza quindi se noi cominciamo tutti ad usare Bitcoin siamo in un sacco attaccare un lato privacy diventa difficile e allo stesso tempo togliamo allo Stato il cibo stesso con cui lui va a nutrirsi per attaccare le persone ovvero il denaro diciamo il potere monetario dello Stato il fatto che lo Stato stampa moneta e quindi ruba soldi a tutti con l'inflazione e lui è l'unico che ne gode e sono due punti di vista secondo me tutte e due molto interessanti io personalmente per quanto mi piaccia anche l'altro punto di vista tendo a tutelare il più possibile la mia privacy su Bitcoin e perlomeno alle persone che si affacciano su questo mondo spiegargli che c'è l'eventualità di utilizzare Bitcoin con diciamo delle attenzioni maggiori alla privacy poi ognuno sceglierà di utilizzarlo nel modo che preferisce sono due visioni interessanti secondo me non è che si escludono ti dico la verità secondo me non si escludono affatto ovviamente la privacy devi tutelarla però è anche vero che lo Stato se gli Stati attaccano Bitcoin ma poi Bitcoin si diffonde avranno meno risorse e Bitcoin sarà ci saranno molte più persone ad avere interesse a tutelare Bitcoin e quindi la privacy di Bitcoin quindi diciamo che vanno bene entrambe le cose ok a proposito di privacy e Bitcoin ti chiederei a questo punto uno che vuole ottenere Bitcoin in maniera anonima quali sono i tuoi metodi preferiti per ottenere Bitcoin anonimi io ho sempre visto i Bitcoin comprati con che vuoi si e non lo so come dei Bitcoin in qualche modo compromessi ok come se non lo so col peccato originale in un certo senso e quindi anche lì secondo me bisogna fare una divisione tra Bitcoin con KWC e Bitcoin senza KWC non è un caso che infatti i Bitcoin anonimi li paghi di più quelli che hai comprato con KWC è come se li hai pagati in parte con i tuoi dati ok quindi quali sono i metodi che tu preferisci per ottenere Bitcoin anonimi o comunque quanto più privati possibili allora io parlo parlo di un pochino di cose faccio un pochino di esempi vado da quello più tra virgolette privacy oriented a quello meno privacy oriented questo però ricordate che è anche un trade off di comodità quindi tendenzialmente il metodo con più privacy è il più scomodo invece quello con un po' meno privacy è sicuramente il più comodo da fare tutti i giorni per me un modo per acquisire Bitcoin che è tra virgolette il migliore che però è iper sottovalutato è ragazzi facendovi pagare in Bitcoin questa cosa è iper sottovalutata ma se voi effettuate un servizio ma può essere che nella vostra attività può essere che fate un lavoretto online vendete qualcosa su Telegram qualsiasi cosa facciate valutate di accettare Bitcoin perché in questo modo accettate Bitcoin li accumulate sono completamente non collegati a voi in nessun modo e vi sudate tra virgolette i vostri Bitcoin in cambio del vostro tempo e questo è sicuramente uno dei metodi migliori per accumulare Bitcoin e tra l'altro questi Bitcoin non vengono inflazionati quindi ve li guadagnate e restano quelli cioè è fantastico ok questo è il primo metodo ed è anche il più scomodo esatto potrebbe essere anche più comodo per alcuni in realtà li dipende dipende e poi andando sempre nei metodi con un sacco di privacy ma estremamente scomodi è comprandoli da altre persone quindi non rivolgendoci ad aziende che richiedono i nostri dati ma potremmo sia di persona quindi ci sono molti eventi Bitcoin come i Satoshi Spritz che sono aperitivi tra Bitcoiner come agli eventi o cercando su Telegram eccetera trovare persone che sono disposte a venderci qualche Satoshi perché magari sono persone che vivono con solo di Bitcoin ogni tanto hanno bisogno di contante venderci i loro Satoshi per cash quindi per moneta contante o volendo ci sono anche molti servizi online come BISC come RoboSatz che non per contante ma mettono diciamo in contatto domanda e offerta di acquisto e vendita di Bitcoin fra privati nel mondo e poi si può gestire la transazione dove magari uno paga con bonifico da 200 euro e scrivo acquisto computer usato ad una persona dall'altra parte dell'Italia e lui mi paga in Bitcoin questo modo non è totalmente reintracciabile perché c'è un bonifico ma è un bonifico tra privati con una causale che è collegata totalmente ad altro ed è sicuramente un ottimo metodo a livello di privacy per acquistare Bitcoin anche se per esempio è particolarmente scomodo cioè se io voglio acquistare in questo momento devo trovare una controparte che mi vende i suoi Bitcoin spesso c'è un diciamo plus che si paga in più perché tendenzialmente magari se vogliamo pagare dei Bitcoin con cash o dei metodi di privacy li andiamo a pagare un po' di più del loro prezzo originale e tendenzialmente se dobbiamo acquistarne grosse quantità si fa più fatica ecco che appunto un altro metodo per acquisire Bitcoin molto più comodo con un po' meno privacy è quello di utilizzare servizi che non richiedono KYC quindi per esempio faccio dei nomi anche se non mi sponsorizza nessuno di questi non ci sponsorizza nessuno ma ora facciamo per la divulgazione esatto ci sono un sacco di servizi come per esempio Rely Bitkeep Bitcoin Voucher Bot Biti Pocket sono tutte aziende che tendenzialmente avendo sede in Svizzera la Svizzera per la legge che ha 900 euro al giorno sia di oro fisico che di Bitcoin non sono richiesti i documenti quindi se voi in Svizzera acquistate Bitcoin o oro sotto i 900 franchi al giorno che sono uguali all'euro adesso praticamente non sono richiesti i vostri documenti di conseguenza tutte le aziende che hanno sede in Svizzera possono cioè sottostanno questa legge ma voi come cittadini anche italiani potete sfruttarla se voi acquistate Bitcoin da queste aziende che hanno sede in Svizzera fino a 900 euro al giorno lo comprate senza fornire in nessun modo documenti ora non siete magicamente anonimi acquistando Bitcoin da queste società perché comunque c'è un bonifico verso una società che vende Bitcoin però perlomeno andate già a guadagnare molto di più l'atto di privacy perché magari questa azienda vi dà dei Bitcoin su un vostro indirizzo personale e non ve li tiene al posto vostro come fanno gli exchange centralizzati non dovete fornire nessun dato all'azienda dovete soltanto fare un bonifico basta ok quindi questi sono i metodi che tu in ordine come dire in ordine di privacy di guadagno di privacy consiglierei exchange centralizzati se possibile ragazzi evitateli per una marea di ragioni sia dal lato sicurezza sia per la privacy sia perché in generale al 99% fanno riserva frazionaria quindi i vostri Bitcoin sono soltanto un numerino sul conto finché non li tirate fuori quindi no evitateli il più possibile ok c'è da aggiungere però secondo me questo è un aspetto importante da specificare che oltre a ottenere Bitcoin privatamente poi in certo senso devi anche mantenerla quella privacy non è che li hai ottenuti privatamente dopodiché ci fai quello che vuoi perché tanto sono Bitcoin anonimi devi anche imparare a gestire la privacy con Bitcoin proprio come gestisci la privacy nel quotidiano non mettendo i dati veri per la card dell'essere lunga sì anche se questo in totale onestà da persona matta che si interessa divulga questi argomenti è un argomento poi tutto a sé stante cioè dire la privacy su Bitcoin è un argomento iperampio con mille sfumature di grigio cioè non esiste bianco non ho privacy nero ho privacy esistono centomila sfumature in mezzo di livelli di più o meno privacy che un utente può provare a ricercare in Bitcoin e non è assolutamente facile in totale onestà purtroppo mantenere dei livelli alti di privacy su Bitcoin mi rendo conto che io sono un malato di mente è una cosa che studio guardo analizzo il più possibile ma se devo spiegare ad una persona che si è affacciata da poco a Bitcoin come avere un alto livello di privacy sui propri satoshi ecco che questo è quasi impossibile se la persona vuole un alto livello di privacy ma conosce poco questo mondo ok ok tutta questa parte di privacy su Bitcoin magari ne parliamo in un'altra puntata e adesso è il momento della domanda di rito qual è per te quel singolo aspetto di Bitcoin più interessante o più affascinante che ti ha fatto avvicinare a Bitcoin e ti fa ancora restare lì domanda difficilissima perché Bitcoin è un un argomento diciamo che ha centomila sfaccettature differenti che toccano e tu me devi dire una esatto e questo per me è difficilissimo perché io proprio respiro Bitcoin a me Bitcoin mi piace esplorarlo in tutte le sue sfaccettature quindi sfaccettature quindi sceglierne solo una per me è difficilissimo probabilmente direi se ne devo scegliere solo una la libertà cioè il fatto che con Bitcoin tu sei un individuo sovrano tu decidi per te stesso in tutto vuoi privacy puoi averla non vuoi privacy puoi anche cedere la tua privacy e fregartene come la sicurezza puoi anche farti gestire i tuoi Bitcoin da altri Bitcoin ti dà libertà totale di fare quello che vuoi di essere indipendente quanto vuoi dal sistema economico tradizionale volendo poi anche abbandonarlo del tutto e questo secondo me è il punto forse più importante di Bitcoin poi io sono un malato tecnico che invece oddio tecnico appassionato di lato tecnico di Bitcoin perché conosco persone ne sanno centomila volte più di me a livello tecnico di Bitcoin io non sono un programmatore però mi piace perdermi in tutti i dettagli del protocollo Bitcoin ed è come dicono i Bitcoin è davvero una tanna del bianconiglio cioè quando tu cadi nella tanna del bianconiglio continua a cadere sempre più giù continua a studiare Bitcoin analizzare guardare nuove cose così ed è infinito è davvero un argomento che tu continui a zoomare e l'immagine non finisce mai continui a zoomare vai sempre più in profondità ma non arrivi mai ad una fine e per me Bitcoin è bellissimo ed è davvero la mia passione il mio hobby della mia vita io ho deciso quasi di dedicare la mia vita a Bitcoin è quello che riempie più tempo nelle mie giornate si 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 ti capisco benissimo Bitcoin è così siamo fortunati ad essere nati in un periodo storico così particolare così strano ma nonostante questo c'è Bitcoin che lo rende secondo me non lo so c'è qualcosa di magico in ogni caso caro TartleQ siamo in chiusura quindi ti chiederei innanzitutto dove ti si può trovare i posti principali in cui se vi interessano questi argomenti potete diciamo guardarmi cercarmi sono un canale telegram che è chiocciola privacy folder dove è un canale dove io condivido vari argomenti riguardanti faccio dei piccoli post in cui spiegano non so servizi per la privacy post su Bitcoin consiglio applicazioni open source quindi in generale consigli veloci e rapidi su privacy sicurezza Bitcoin in generale poi ho anche da poco lanciato un podcast che potete trovare su tutti praticamente i podcast player cercando il priorato del Bitcoin oppure guardando il sito priorato.org dove è un podcast dove onestamente non è facilissimo mi rendo conto è un po' pesantino però ci sono tante 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 informazioni che sono difficili da trovare da altre parti cioè io l'ho creato perché sono io per primo un ascoltatore di podcast infinito ne ascolto a tonnellata mi ero un po' stancato di sentire dire sempre le stesse cose nei podcast su Bitcoin quindi ho deciso di farne uno tutto mio le puntate arrivano anche alcune a due ore o più quindi impegnativo ma ci sono tantissime informazioni se vi interessano questi argomenti niente pubblicità è tutto gratuito quindi se vi interessa potete guardare sia il mio canale telegram sia il mio podcast in generale sono i due posti in cui guardarmi di più e se devo lasciare un consiglio a tutti dico ragazzi accumulate satoshi ogni euro che avete tenete in banca solo quello che siete disposti a perdere accumulate satoshi riflettete su quanto è importante la vostra privacy e venite a qualche meetup Bitcoin qualche satoshi spritz che ci si beve una birra insieme che fa sempre piacere perfetto perfetto allora io ti ringrazio della tua disponibilità poi ci risentiremo d'accordo? ci sentiremo per un altro episodio in futuro un salutone e grazie per avermi invitato grazie a te ciao 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 ciao